Benvenuti in terapia. Allora, intanto, va bene, sono le, ve lo dico perché di solito video di giorno è difficile, sono le 2.36 ho finito ora con le pagine, diatribe, messaggi e anzi no, me ne è arrivato uno anche in questo momento, ma gli rispondo dopo. Comunque, parliamo di endorsement, se io voglio essere endosser dv, ne conoscete qualcuno qua in Italia? Non credo, è difficile direttamente con la casa, anzi no, uno c'è, che è Iannetta, però è veramente, mamma li mostri da quale pianeta sei arrivato, andatevelo a vedere, 18 pedali, percussioni, divide, fa delle cose molto particolari, ha un suo modo, un suo stile, è veramente unico. Quindi se non lo conosci, vatelo a vedere, ma lui ci è arrivato direttamente, là, con dv, proprio con la casa, però qua, avendo collaborato con tante aziende io, qui funziona veramente in maniera diversa, intanto ho visto arrivare tante mail di batteristi, anche bravi, no, così, bisogna vedere con chi ti stai relazionando. Allora, voglio essere endosser dv Ludwig, non è che scrivi a Ludwig, Ludwig ti rimbalza come il muro di gomma, no? Non funziona così, dovrai sottostare a quello che è la parte italiana. Quindi chi la importa, chi la distribuisce, e quindi ti dovrai relazionare con i distributori, difficilmente ti potrai relazionare con la casa madre, oppure scegli la via artigianale e lì magari hai il valore umano, così. Ma il gratuito, quello che tutti pensano, non esiste più, ma dà tempo, cioè, non ti danno una cosa gratuita, appunto, sei a netto, sei con l'aiuta, o sei così talmente particolare che se no, se sei molto fortunato potrai dare il prezzo di costo, se no un artist price che è uno sconto sullo strumento che andrai a prendere. A fronte di cose però, cioè, pensateci, perché ok, ti faccio lo sconto, ma devi farmi il video così, devi dire solo quelle cose lì e quello è solo bello, se no te lo tolgono immediatamente, quindi, poi ci sono alcune aziende che danno il mio torno alla penale, ok, fai il video con l'altra batteria, mi paghi il restante come se la batteria l'avessi presa in negozio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il discorso è lunghissimo, perché faccio questo ragionamento qua di endorsement? Perché intanto bisognerebbe pensare a come ci si pone, cioè, non è che puoi mandarla mail, oh, guarda, cioè, ha fatto questi video, Nani, cioè, non è un tuo amico, no? Non è il tuo cugino che dice, oh, ciao, Tato, ti ho mandato questo, guarda che bel video che ho fatto e cosa ne pensi? Non gli interessa molto di andarla a vedere sempre dopo. Dopo che cosa? Perché purtroppo oggi siamo qui, siamo nell'arte estesa, se siamo su YouTube questo è la testimonianza, anzi, vi do una bellissima notizia che stasera, non è il 18, quindi, non so, questo video lo vedrete dopo, ma stasera magari guardo in live, dirò una cosa carina. Ma, ehm, torniamo qui, endorsement, va bene, cosa devo fare allora, perché un'azienda, pensate a voi stessi, devo, cosa, che lavoro fate, gli elettricisti, vendo i sanitari, non so, perché una persona dovrei dargliela il prezzo di costo senza guadagnare nulla? Per la pubblicità in cambio, quindi prima guardare i numeri che hai, prima di guardare come suoni, se sei bravissimo, se hai lo stile più unico, che raro, cioè, oppure, o sei il mostro che mi annetta, oppure guardano prima quelle cose lì, quindi la tua pagina, le visualizzazioni, se fai i concerti, con chi li fai, che genere fai, se nella loro fetta di mercato c'è più il jazz che il rock, magari tu stai facendo rock e sbagli, l'hai mandato a Canopus e ti sei sbagliato, insomma, bisogna valutare veramente tante cose. Dopo, quando hanno visto che, sì, ci può essere un interesse, però stiamo parlando di un distributore, quindi che fa da magazzino, magari magazzino, scusate, mi hanno già corretto, ma che ragazzi, mannaggia, e, praticamente, darti lo strumento al prezzo di costo, gli serve come specchietto per le loro vendite e quindi dovrai garantire un tot di video, dovrai garantire un sacco di cose, è a livello professionale, e allora sì, potrai mettere Ludwig, o che ne so, Yamaha, Yamaha qualcosina si è mossa di più in Italia, qualche indossar c'è, full intendo, ma sono veramente, adesso magari vado a memoria, ma non, sempre perché mi prepari video, allora, ce ne sono due o tre, fatemi venire in mente, comunque due o tre ce ne sono, ma sono veramente pochi, gli altri che mettono Yamaha l'hanno pagata, l'hanno pagata poi magari non al prezzo di costo, perché lì è una multinazionale, quindi ha diversi rappresentanti qua in Italia, delle strutture che deve pagare, qui per forza, qualcosina deve guadagnare anche sugli indossar poco, oppure se sei il nome, quindi mi raccomando, non in tasate di mail che non vagano, neanche prese in considerazione, già senti presenti come ho detto prima, salve, guardi che bello, no, lì ti devi presentare con i numeri, devi essere molto, molto, diciamo, professionale anche nella mail, perché sennò la cestina ancora prima, magari c'era qualcosa di interessante, ma ancora prima, e vedere quello che puoi ottenere, cioè se il canale, faccio un esempio, Yamaha, ti può dare delle soddisfazioni, ma l'indorso intanto per avere lo strumento a prezzo di costo, o qualcuno si immagina appunto gratuitamente, è difficile, insomma, sceglietevi uno strumento, quello che vi piace, magari potete pensare di vedere chi lo distribuisce, scrivergli dopo che avete fatto tante cose, che sono tante visualizzazioni nei video, tanta qualità nell'audio, quindi ne abbiamo già parlato in altri video, no, ti devi preparare, se ti vai a confrontare con la bolla dei batteristi, poi devi imparare le macchine, insomma, i suoni devono essere belli, c'è veramente un discorso infinito, questo era un cortissimo, per dirti, insomma, non fantasticare, non perdere tempo, se vuoi raggiungere quell'obiettivo lì, le cose ci sono da fare, sono tante prima, è chiaro che c'è un po' una strada, magari un po' più corta, però chiaramente fa parte del mio lavoro, ve lo dico, no, non voglio essere così spietato, però insomma, devi pensare che ti devi preparare, farti aiutare e magari raggiungere il tuo obiettivo per ottenere lo strumento che veramente ti piace, non andate per prendere uno strumento gratis con una batteria che non vi piace, con un rullante che non vi piace, perché intanto lo pagherete comunque, perché visto che non esiste praticamente più, e in più avrete lì, suonarete una cosa che non vi piace, quindi ve lo sconsiglio vivamente. Allora, super corto, perché mi sono arrivati un casino di messaggi, e va bene, dai, se sei arrivato fino a qui, come sempre con amore, grazie, la mail è passata, se hai bisogno di fare una cosa, scrivimi, e mi raccomando, resta un batterista anonimo, ci vediamo al prossimo video, ciao!